Cominciamo a parlare di cosa facciamo nella vita, cioè alla fine sono le normali chiacchiere dal primo appuntamento Lei mi fa, ah io lavoro in un bar da un paio d'anni però non mi trovo bene E gli faccio, ma come mai non ti trovi bene? Fa, ah guarda io cioè odio quel bar perché stai in un posto che è pieno di persone di colore Ovviamente lei non ha usato l'espressione persone di colore, sto parafrasando perché quello che ha detto lei non è ripetibile Io la fisso in silenzio perché tipo non sapevo cosa rispondere ad un'affermazione del genere Lei non contenta, continua e rincara la dose dicendo, eh poi tutti sti neri che entrano nel bar e cioè ordinano da mangiare, da bere eccetera Per rima ne devono pagare e a me fa uno schifo quando devono pagare perché mi danno i soldi e io gli devo dare il resto E cioè io gli lancio il resto sul bancone perché che schifo toccare le loro mani No scusate sto facendo un minuto di silenzio perché io non credo ci sia niente da dire